Come si temeva l'accordo di governo sul deficit di bilancio al 2,4% del PIL non piace ai mercati. Piazza Affari è aperto a ribasso, meno 2% e chiuso peggio. L'indice Fuzzi-Mib è crollato del 3,72% con cadute a picco dei titoli bancari. Anche il differenziale fra titoli italiani e buntedeschi, ossia lo spread, si è spalancato, ha sfondato i 280 punti e è chiuso a 269. Non è altro che il termometro del rischio percepito dagli investitori spaventati da un braccio di ferro dell'Italia con l'Unione Europea. L'Unione aveva invitato il nostro paese a mantenere il rapporto deficit PIL sotto la soglia del 2%. In un'intervista a una televisione francese, il commissario per gli affari economici e monetari, Moscovici, non minaccia sanzioni ma invita il nostro governo al dialogo per evitare che siano commessi errori. Se gli italiani continuano a indebitarsi, sapete cosa succede? Che i tassi aumentano, il rimborso del debito diventa più pesante e tutti i fondi che vi saranno destinati verranno sottratti ad altro. Non bisogna sbagliare, non bisogna togliere un euro alle autostrade, all'educazione e alla giustizia sociale. Quando si è indebitati, si è legati e non si può agire. Qui a parlare non è un burocrate di Bruxelles, fare rilancio quando si ha un debito molto elevato finisce per rivoltarsi contro chi lo fa e alla fine è sempre il popolo a pagare. Molto più severe le reazioni che arrivano dall'Italia, in particolare il commento del presidente dell'Inps sulle misure inserite dal governo nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Boeri punta il dito contro la decisione di aumentare i pensionati di mezzo milione. Si dice che questo aumento servirà a liberare opportunità di lavoro per i giovani, ma non c'è nessuna garanzia che questo avvenga, le parole di Boeri.